E' già cominciata in tutta la Sardegna la distribuzione da parte di Coldiretti e Campagna Mica di oltre 12.000 kg di cibo e bevande, 100% made in Italia alle famiglie indigenti. Si tratta di un'iniziativa nazionale promossa da Coldiretti, Campagna Mica e filiera Italia con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del paese, con la quale saranno donati, in tutte le regioni italiane, oltre mezzo milione di chili di prodotti. Si tratta di un segnale di vicinanza e speranza del mondo dell'agroalimentare, con prodotti di altissima qualità di origine italiana alle purtroppo tantissime famiglie e persone che vivono situazioni di crisi economica, che come sappiamo sono cresciute con il Covid, sottolinea il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Qualbu. Un'iniziativa evidenzia il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba, che vede mobilitata Coldiretti Sardegna e Campagna Mica con il sostegno dei responsabili ecclesiastici e la collaborazione della rete solidale nata all'interno dei mercati di Campagna Mica, assieme alle parrucche, associazioni caritatevoli e servizi sociali di diverse amministrazioni comunali. I pacchi agroalimentari della solidarietà saranno donati a nuclei familiari in stato di bisogno. Ogni famiglia è destinataria di un pacco di oltre 50 chili con prodotti 100% made in Italy, spiega Coldiretti, dalla pasta ai legumi, dalla passata di pomodoro al cotechino, dal prosciutto crudo alla farina, dal granapadano al parmigiano reggiano, dal provolone al latte UHT, dal panettone al pandoro, dall'olio extravergine d'oliva alla mortadella, dalla carne in scatola al mascarpone, dai biscotti per bambini agli omogenizzati.